Lari è il suo nuovo amore, spesa per un weekend da sogno in hotel. L'uovo fidanzato per Ilari Blasi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, ex moglie di Francesco Totti. È stata beccata dai paparazzi di chi in compagnia dell'affascinante imprenditore tedesco Bastian. I due sono volati a Zurigo per trascorrere qualche giorno di passione e complicità. Baci, abbracci, tenerezza e un weekend in paradiso, in una suite con vista a lago in un hotel esclusivo. The Dolder Grand, 1600 euro a notte. Da venerdì a domenica, fa sapere la rivista. Ilari Blasi, chi è Bastian Bastian è un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. Stando ai gossip la relazione con Ilari Blasi è iniziata da poco, solo da qualche settimana la presentatrice ha iniziato a seguirlo su Instagram. Hanno così deciso di concedersi una fuga romantica in un hotel a 5 stelle, con un'ampia SPA e due prestigiosi ristoranti. Virgola.